Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovissimo video della Ultimate Decades Io sono Alessandra, la city sim, e se ancora non mi conoscete e non avete ancora visto i video precedenti della Decades vi ricordo che nell'info box trovate il link per questa playlist ma anche per altre playlist che vi potrebbero interessare e poi vi ricordo che le nostre serie principali nascono su Twitch, sulla piattaforma viola quindi vedrete poi di volta in volta il caricamento di live qui su YouTube ma comunque nascono sulla piattaforma viola quindi vi invito a cliccare il cuoricino anche lì trovate il link ovviamente qui sotto anche perché partecipare alle live è ovviamente più divertente che rivedere i video in un secondo momento, ve lo consiglio assolutamente detto ciò ragazzi vi ricordo anche che ogni dieci anni per quanto riguarda proprio la Decades facciamo dei video recap in cui vado a sintetizzare nel minor tempo possibile e gli avvenimenti salienti degli ultimi dieci anni e oggi a proposito degli ultimi dieci anni è il 1335 e vi do una piccola vista di quello che sta succedendo in casa Kazama abbiamo Clelia che sta lì a ripulire un po' il tutto e Camon, oh sì ragazzi la dinamica è permissiva, assolutamente sì anche perché lo sapete che Camon ha perso, che c'è? hanno perso tanti figli loro ragazzi per cui che sta facendo? credo, spero, un bagnetto, oh adoro! è permissiva allo stesso tempo, lui ha un po' di testa calda anche perché ragazzi in realtà vi dico la verità se ne è appena andato un cliente della panetteria al piano di sotto e ha un po' litigato con lui non ho capito se non volesse spendere i soldi sinceramente non ho capito allora invece che guardare qui perché mi fa molto piacere che tu voglia guardare ma viene a sostituire l'acqua e poi ti direi lava nella tinozza perché ragazzi guardate qua abbiamo cose su cose buttate a terra grazie, grazie mille lei tra l'altro è appena andata a prendere l'acqua qui al pozzo quindi ne abbiamo a disposizione in abbondanza e scusatemi ma lei non è stata molto molto felice nooo non darmi ordini non è stata molto felice del bagnetto Alma ti prego allora stavo dicendo ragazzi che col fatto che loro hanno perso appunto tanti figli in questi anni ovviamente mi rendo conto che la dinamica non possa che essere permissiva vuoi cambiare il pannolino? vediamo cambia il pannolino ah non ha bisogno di essere cambiato allora vi direi no non tormenta ma prendi un po' con il braccio la piccola Alma e goditi questi momenti con lei ragazzi è domenica primo giorno di questo nuovo anno e purtroppo la dinamica permissiva speriamo che continui per tanti altri anni ma stiamo scoprendo se Alma passerà d'età o no è una bambina di una bellezza ragazzi assurda però purtroppo ovviamente io vi faccio vedere scene di ordinaria amministrazione anche in casa per poi colpirvi alle spalle con un dado mannaggia la miseria io li amo ve lo giuro tra l'altro lui è adorabile perché fa anche tanti servizietti in casa e infatti sta ripulendo un po' la situazione peraltro qui c'era ancora la cosa al formaggio non vorrei dire allora una volta che lanceremo il dado la nostra Clelia poi dovrà dedicarsi un attimino anche alle faccende in casa perché ragazzi ci sono dei conigli che potrebbero diventare anche assassini a breve ma lo sapete proprio il fatto che hanno vissuto un po' di situazioni non proprio felici in questi ultimi anni hanno fatto sì che Clelia si prendesse più cura della famiglia a livello affettivo che a livello di pulizia in casa comunque andiamo adesso a lanciare il dado ragazzi scopriamo se la nostra Alma Kazama potrà finalmente diventare bambina e unirsi quindi ai suoi cuginetti e cuginette che già sono diventati bambini e adolescenti andiamo al dado allora ragazzi per far sì che Alma diventi bambina non dovranno uscire i numeri 9 e 19 quindi il 17 potrebbe andare benissimo andiamo a lanciare subito il dado 3,2,1 sì sì,sì,sì,sì ok,ok allora ragazzi dopo aver visto Fiammetta sinceramente sono troppo troppo curiosa di vedere anche la cuginetta e quindi sta per diventare bambina finalmente auguri adoro ragazzi allora 1,2,3 no beh però ragazzi vi posso dire lo capisco perché ha visto morire praticamente tutti i suoi fratelli e sorelle allo stesso tempo credo che sia abbastanza mentale molto intelligente la vedo proprio come dire proiettata a creare grandi cose a fare grandi cose probabilmente anche grazie al fatto che il padre ha sempre avuto a che fare con gli affari quindi non escludo che abbia un livello intellettivo più alto della media a proposito andiamo subito a vederla nel caso ovviamente eccola qua ragazzi la nostra alma allora spero che vi piaccia con questo capello che la ricordo rispetto a quando era piccolina ed è rimasta sostanzialmente uguale a quando era piccola con questa boccuccia che è praticamente la bocca del padre allo stesso tempo non lo so credo che abbia comunque la parte diciamo di su del viso che richiama la nostra altra famiglia quindi la famiglia Lucenti e vi faccio vedere i suoi look principali io la adoro eccola qui poi abbiamo questo da festa sul blu e caldo sempre sul blu non so perché ho scelto quelli lì sul blu comunque questo qui invece è sul verde look appunto per clima freddo fatemi sapere che cosa ne pensate della piccola alma e se appunto la dinamica familiare permissiva secondo voi ha senso rispetto a quello che ha passato questa famiglia veramente con la maledizione di Roxy ora che Roxy non c'è più come avete potuto vedere è andato a buon fine il dado speriamo continuino così però appunto le è rimasto nel cuore una sofferenza rispetto anche ai gemelli che ha visto andare via di volta in volta e anche quando lei era in fasce quindi la capisco perfettamente ragazzi torniamo a vivere oh ragazzi sta reagendo alla prima neve perché è la prima volta che la nostra adorata alma vede la neve da bambina che bello vuole piangere a fiumi tra l'altro ma in realtà più che piangere a fiumi io ti direi di venire un pochettino a iniziare a darti da fare a ricamare quindi semplice facciamo un telaio già grande dai facciamo così tanto oddio in realtà non è che abbiamo proprio tantissimi soldi però telaio grande arcobaleno anche perché tanto lo sapete che investiamo i nostri dindini in qualcosa che poi comunque va a valere di più quindi se tutto va bene allora Cameron sta prendendo l'avviata per venire a chiacchierare con Clelia ragazzi dobbiamo tenerli sotto controllo perché loro non possono più avere figli purtroppo appunto dopo tutte le perdite che hanno avuto sanno che sarebbe molto molto rischioso anche per Clelia quindi cerchiamo di tenerla sotto controllo ragazzi allora prendi e sposta non posso farlo in effetti perché qui c'è la biancheria che ancora è sul filo quindi dobbiamo aspettare ragazzi ma direi Clelia adorata mia vieni qui e approfittane per controllare il livello di polvere ma ce l'abbiamo la scopa? scusa a proposito il telaio qui che appunto mi posso andare a vendere cos'era questo? ah il certificato di matrimonio mamma ragazzi guardate qui impronta infantile di Alma impronta infantile di Rea di Diana vedete c'è tutti questi traumi che ha vissuto la povera Clelia ma c'è lo capisco io direi che questi pure ci andiamo a cestinare ragazzi perché dobbiamo dimenticare e magari questo qui ce lo attacchiamo ci può stare ci può stare perché la piccola Alma anzi io la metto qui perché ragazzi ovviamente questi adesso saranno un po' spazi che utilizzerà Alma ovunque lei voglia andare ma scusate mi ripeto la scopa ce l'ho? io non la vedo oh mio dio dove cavolo l'ho buttata? io ce l'avevo ok ragazzi allora le ho comprato la scopa che non so dove aveva buttato e adesso sta anche andando a ripulire tutti i batuffoli che però devo dire io adoravo questo piccolino ps fatemi sapere se avete anche voi il kit della polvere e se lo utilizzate ancora dopo tanto tempo a me devo dire non dispiace si potrebbe anche deselezionare la polvere ma assolutamente non lo faremo e oh ragazzi la nostra Alma cresce bene cresce molto molto bene ma direi che visto che è ora di pranzo andiamo anche con Clelia a iniziare a preparare qualcosa da mangiare e non escludo anche da vendere ragazzi io li sto adorando Cameron sta qui a spiegare un po' di cose ad Alma e scherzano e in realtà potrebbero anche litigare no dai però stanno scherzando che dolci aspettate cosa è successo ecco qua lo sapevo piango se voglio amore ragazzi c'è questa situazione dolce amara tra questi due io li adoro e scusatemi in tutto ciò Alma volevo che tu venissi qui magari ad aiutare la tua mammina quindi partecipa alla cucina e facci vedere se sei brava perché lei sta preparando tipo un minestrone in realtà per cena più che per pranzo ormai sono le 4 di pomeriggio e quindi voglio vedere se riesce ad aiutarla o è ancora troppo piccola guardate che minestronone ragazzi eh vieni vieni Alma facci vedere oh eccola qua è molto volenterosa la piccolina eh ragazzi nonostante sia un po' pessimista vedete un po' la giudica e critica però è lì che le sta vedete sta tifando per la mamma la amo che in realtà non fa nulla però sta lì e la sta aiutando allora gradisce le barzellette sì direi di sì Clelia e Camon è spassosa oh sì ecco qua come avete potuto vedere praticamente la mamma non ha cioè la figlia non ha aiutato nemmeno di una virgola però direi a questo punto it has to bring anzi facciamo una cosa chiama a tavola direttamente ok senti parlare della carriera ragazzi ma non ho capito perché è in malizia tra l'altro Camon scusa mi sei nel muro venite a mangiare ragazzi non fa niente che sono le cinque ma non avete mangiato prima quindi per piacere eat a serving oh ti piace? lezione sim pessimisti no sono spesso triste beh ragazzi ma com'è darle torto sinceramente vi piace? ecco lui voleva andare a mangiare un hamburger che non esiste però ti capisco hai figlio hai figlio e quindi sì ragazzi allora momentaneamente io lascerei loro qui godersi la giornata la fine di questa domenica perché abbiamo un'altra missione importantissima da compiere quindi ciao famiglia Kazama per il momento ci vediamo a brevissimo ed eccoci qua ragazzi non solo abbiamo cambiato unità familiare come potete vedere da questo profilo così sinuoso ma anche città perché siamo tornati ad Enford-on-Bagley e ragazzi quindi tutti i nodi vengono al pettine e per pettine e per nodi intendo il sondaggio che avevo lanciato la scorsa settimana per trovare una pretendente a Bjorn innanzitutto volevo ringraziare tutti voi per aver partecipato sia alla creazione delle simine sia alla votazione ma se ve lo state chiedendo e avete sbirciato già nella sezione community appunto sì non c'è più il sondaggio ragazzi l'ho dovuto togliere perché sono stati creati dei bot che hanno partecipato alla votazione delle simine non chiedetemi come si facciano queste cose perché sia stato fatto ma lo scopo credo che fosse appunto quello di sabotare il sondaggio per cui ho dovuto togliere appunto il sondaggio ma non vi preoccupate perché ho salvato tutti i vostri voti ho dovuto purtroppo eliminare i voti forniti dai bot e quindi però non vi preoccupate perché nessuna simina è stata diciamo penalizzata abbiamo comunque controllato e contato i voti effettivi e quindi adesso vi presenterò le due simine che entreranno a tutti gli effetti nella sfida all'ultimo sangue per conquistare il cuore di Bjorn allora ragazzi innanzitutto vedete che lui sta salendo una montagna perché non sa ancora che a brevissimo conoscerà le due simine quindi non le conoscete voi e non le conosce nemmeno lui però appunto visto che questa montagna collinetta è stata già visitata numerose volte da stranieri persone che ogni tanto passano da Inford-on-Bugley vanno qui in questo posto e Bjorn ragazzi è un ragazzo ragazzi ragazzo è un ragazzo adolescente che voleva prendersi un pochettino di spaccio dalla famiglia caotica piena di fratellini e quindi è venuto un poco così in quellina a prendere un po' d'aria anche perché in realtà vivono veramente vicino a questa montagnella e peraltro sapete che ha dovuto vivere anche ultimamente un lutto importante della sua sorellina Cornelia loro avevano pressoché la stessa età quindi diciamo che ci sta che voleva schiarirsi un pochettino le idee e caso vuole che qui ci siano due donzellette venute da terre lontane anch'esse e ve le vado a presentare subito allora ragazzi la prima la vedete proprio qui fuori ed è Isidora e la seconda invece qui dentro ve la faccio vedere a brevissimo e ragazzi Isidora ma sei sei stordita Isidora ragazzi in realtà aveva già incontrato Bjorn proprio se ricordate la sua storia saprete che si sono incrociati in maniera molto casuale quando appunto Isidora si è recata qui ad Hanford on Bugley con il padre il padre diciamo che le ha tra l'altro nei paraggi vi avviso lo vedremo probabilmente in giro anche lui a prescindere da se sarà la scelta o meno di Isidora ma praticamente sono venute da Hanford on Bugley proprio con lo scopo di trovare un fidanzato ad Isidora quindi sicuramente il padre è più investito di lei in questa ricerca ma nonostante tutto Isidora alla fine ha incontrato appunto per pura casualità Bjorn non si sono nemmeno presentati lui aveva soltanto raccolto un fazzoletto da terra eccetera si erano scambiati una serie di occhiate quindi non c'è stato niente di che però sono rimasti entrambi con il dubbio di chi fosse l'altra persona cioè della serie lui non conosceva lei lei non conosceva lui ma si sono chiesti ci rincontreremo chissà lui se le ha chiesto e se ha chiesto anche lei in realtà ragazzi perché è venuta con l'intenzione di trovare un marito ma in realtà soltanto per accontentare il padre lei non aveva assolutamente alcuna intenzione e quindi adesso andiamoci a presentare in maniera amichevole a Isidora sarà la prima che si è stordita ragazzi sarà la prima con cui andremo a presentarci scusatemi io vado un attimo a truccare un bisogno e rendere felice lo farò anche con l'altra sim esatto giusto per rendere attendibile la reazione e vediamo qual è il primo sentimento ragazzi aiuto andiamo subito ad aprire la schermata no ragazzi ma che dolce biorno pensa che Isidora sia interessante c'è qualcosa in Isidora che scaturisce emozioni piacevoli in Bjorn e invece Isidora pensa che Bjorn sia responsabile questo sim sembra essere una persona molto responsabile capace di prendersi cura delle persone e delle cose probabilmente lei è arrivata in città proprio con l'idea di non riuscire mai a trovare il suo vero amore soprattutto sia obbligata dal padre a trovare un amore o diciamo un marito più che amore e alla fine della fiera amici e amiche scoprirà probabilmente che le persone responsabili e adorabili sono magari dietro l'angolo proprio davanti a lei e sono molto contenta di questo primo approccio ma in realtà non è l'unico quindi direi di bussare alla porta e presentarci anche alla seconda simmina che rullo di tamburi è ragazzi oddio ho sparita è la seconda simmina più votata ed è proprio isabel isabel ragazzi anche la sua storia è molto particolare vi invito ad andare a vedere il video precedente in cui ve li presentavo entrambe perché diciamo che lei e anche dal look potrete notare che è molto stilosa perché ha i vestiti di quando è scappata di casa sostanzialmente mi fa tanto ridere ma è adorabile perché ha rinunciato a tutto per la sua libertà ragazzi devo dire che mi piace tanto anche la sua storia e quindi sono contenta che sia anche lei qui presente senza che vai a bussare perché a questo punto lei è qua capito Bjorn è qui mamma mia ragazzi ma voi vi ricordate il precedente qui chi c'era c'erano splendora e Beatrice quando appunto dovevamo fare una scelta precedente con il nostro erede e rullo di tamburi ragazzi oddio aspettate aspettate andiamo a renderla trucco un bisogno rendi felice perché ok fiduciosa oh andiamo subito a leggere mi sa che anche in questo caso c'è stato no no raga non ci credo la proprio letta Bjorn ha visto che Isabelle Marie è egocentrica cacchio raga è così è così però noi non come dire ci fermiamo alla prima impressione perché la first impression lo sapete io mi fido relativamente ma la cosa importante è soprattutto come si approcciano l'una all'altra parlando e continuando a frequentarsi perché magari a meno che non esce proprio una come dire cotta bella e buona immediata oddio sai suonare anche la chitarra guardate vedi vuole far vedere che è una persona comunque abbastanza alla mano allora complimento sincero ci comportiamo nello stesso modo con lei e con Isidora però appunto a meno che non esce una cotta così netta io non mi basso soltanto sulla first impression però ovviamente faremo un po' di cose allora abbiamo detto complimento parlotta della cotta chiediamole anche se è single eccolo qua perfetto che carina comunque lei ragazzi poverina allora ci sta che sia egocentrica però allo stesso tempo bjorna cerca di è single ok allora abbiamo fatto due abbiamo avuto due approcci scusatemi ma a questo punto forse Isidora è entrata in casa allora devo andare a bussare necessariamente perché proviamo un paio di approcci con una un paio di approcci con l'altra e vediamo ragazzi visto che loro sono ok entra pure dove è andata Isidora scusatemi oh cielo se ne è già andata nella foresta lei è una tipa così ragazzi allora centriamo la visuale ah no eccola scusatemi scusatemi tra l'altro si sta come dire comportando anche da persona matura e assolutamente non complimento sincero non in come si dice in guerra con la sua compagna di casa che momentaneamente si sono trovate qui perché appunto sono entrambe di passaggio una specie di taverna però secondo me iniziano a percepire che anche l'altra ha un interesse verso il nostro Bjorn e allo stesso tempo si sta comportando in maniera generosa e ok Isidora è single e tranquilla allora ragazzi continuiamo un attimino così discutire gli interessi perché fin quando non c'è proprio una situazione drastica diversa tra l'una e l'altra direi che diamo chance a tutte e due di conquistare il cuore no ragazzi eccola la cotta è arrivata oddio si può dire che Bjorn gradisce gli appassionati di Dilly oddio ragazzi sì direi di sì ma in realtà questa cotta è uscita a prescindere oh mio oddio tempo due chiacchiere due raga non ci credo vi giuro oddio sono già amici e c'è una cotta ragazzi Bjorn per Isidora Bjorn ha una cotta devastante per Isidora ragazzi ci è voluto pochissimo per far partire questa cotta scusatemi volevo un attimino vedere però anche con ma tu sei Isidora oh sì scusatemi volevo vedere un attimino anche con Isabel centrale la visuale ah ok dove te ne stai andando allora te le trasportiamo qui il nostro Bjorn e abbiamo detto chiacchiera degli interessi vediamo aspettate interessi no interessi ah discutete degli interessi scusate mi stavo trovando cercando sbagliato e vediamo se anche con lei perché ragazzi cioè veramente io sono sconvolta da questa cosa con Isidora è già amica praticamente Bjorn si è presa una cotta pure per lei io non ci sto non ci sto credendo raga no vabbè io qua a questo punto non ce la faccio Bjorn amore 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 nei paraggi per essere vicino a qualcuno per cui è una cotta no ragazze però cioè io veramente sono basita da tutto ciò racconta una storia sconvolgente no vabbè ma non ci sto credendo allora vediamo un attimo allora affetto facciamo così anzi flirt e vediamo flirtiamo con una e poi flirtiamo anche con l'altra no vabbè ragazzi non ce la faccio allora momentaneamente ciao allora vi dico la verità ragazzi io con loro poiché sono una famiglia secondaria non farò una come si dice flirtiamo anche con lei non farò un una gara di abilità perché vorrei che appunto che sta facendo Isidora oh mio dio è stata maledetta da un tizio che non c'entra assolutamente niente chi sei tu vattene Isidora Isidora oddio aiuto che succede aiuto the bug ok eccola qui e quindi flirtiamo però ragazzi veramente sono abbasita comunque non so se avete notato ma in realtà non c'è ancora la barra rosa nonostante in realtà c'è ok allora ragazzi adesso ruolo di tamburi perché andiamo a vedere friendship 39 39 esattamente uguale l'amicizia non ci posso credere ragazzi però non c'è la poligamia capito non poter allora loro due vanno d'accordo loro vanno d'accordo loro vanno d'accordo loro vanno d'accordo cioè sarebbe una troppia fantastica ragazzi però non possiamo io non ci sto credendo ve lo giuro mi devo basare su qualche tipo di desiderio facciamo così vediamo se mi esce per una di loro bacia qualcuno allora ragazzi sono molto molto indecisa vi dico la verità allora come ti stavo spiegando perché posso essere confusionale a volte ma poiché appunto nel momento in cui abbiamo una famiglia principale come Cosplendora e Beatrice all'epoca ho fatto fare loro delle gare di faccende domestiche in questo caso essendo una famiglia secondaria mi vorrei basare più sul proprio sulla verve sul sentimento e su quello che mi possono ispirare quindi ragazzi io sinceramente vi dico la verità sono abbastanza indecisa tra le due e aspetto i vostri commenti perché nella prossima puntata che sarà il 1336 ragazzi Bjorn si deve sposare e soprattutto però direi che poiché abbiamo ancora un attimo di tempo non si deve sposare oggi stesso io ho la possibilità di aspettare i vostri commenti quindi fatemi sapere che cosa ne pensate io vado a rivelare la cotta all'una e all'altra vediamo cioè guardate ragazzi è assurdo perché poi tra l'altro non c'è gelosia tra di loro guardate davanti a casa di chi siamo scusatemi Bjorn che ne pensi no vabbè chab shu stanno parlando anche tra di loro in maniera assolutamente amabile quindi non capisco gliel'hai confessata la cotta ok ok ragazzi allora credo che ad Isabel l'abbia confessata mentre invece vediamo confessa confessa con fessa oddio non lo so sinceramente però sicuramente la barra rosa c'è anche con Isidora perché era uscito il cuore quindi io credo che sia proprio un bug eccolo qua rivela la cotta e vediamo come reagisce anche lei eh 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 sì ragazzi eh sì ragazzi miei allora andiamo subito a vedere qual è la situazione romance 15 e 42 46 e 15 sempre di romance 46 perché mi sa che con Isabel aveva conversato un attimo di più in un momento ma sinceramente mi baserei soprattutto sulla parte romantica e ragazzi non è possibile romance romance 15 e romance 15 quindi io a questo punto non ho idea di cosa fare aspetto i vostri commenti e non escludo che arriveremo a fare un sondaggio dopo questo video su discord quindi se ehm appunto siete su discord correte nelle chat apposite perché probabilmente ehm chiederò a voi un parere appunto lì purtroppo dopo i bot e tutto il resto che ehm è stato attaccato qui su su youtube il sondaggio credo che continuerò per i prossimi sondaggi ad effettuarli su discord ragazzi ehm quindi appunto se non non siete iscritti a discord fatelo tanto è gratuito e ehm entrate nelle stanze ehm dedicate alla decades detto ciò ragazzi io a questo punto vorrei lasciare loro con questo brio ehm soprattutto per capire anche prossimamente se da soli cresce ehm questa ehm questa situazione sia amichevole che non vediamo 46 46 raga 46 e 15 46 e 15 sta procedendo esattamente nello stesso modo non ho più parole quindi fatemi sapere la vostra opinione nei commenti ovviamente e e quindi ci vediamo nella prossima puntata con Bjorn e loro due per capire un attimino chi eh sposerà ovviamente ragazzi le vostre opinioni sono sempre importanti non soltanto per questa occasione quindi qualsiasi commento abbiate fatemelo sapere quindi nella prossima puntata scopriremo chi Bjorn avrà scelto sceglierà come compagna della sua vita ovviamente non è la fine dell'episodio quindi continuiamo eh ma dobbiamo un attimino eh cambiare persone con cui andare a giocare e voglio vedere un attimo se di sua spontanea volontà lui sta pensando a qualcuna di loro vediamo si vorrebbe alleggerire allora togliamo anche questo perché voglio capire oh si amichevole con Isidora ok ok quindi questo io lo faccio fare sì lo so che avevo detto ci vediamo nella prossima puntata però allora ehm chiedete il colore preferito vediamo tanto in maniera amichevole ma è stordita un'altra volta lei mannaggia qual è il tuo colore preferito a me piace il giallo a te quale colore le piace ok allora la gala dice colore blu marrone grigio rosso e giallo ammira le stelle flirta ragazzi sta flirtando e ha accettato il complimento da lei però ragazzi anche con lei vuole chiacchierare chiacchiera con un sim per cui hai una cotta quindi ovviamente amichevole chiacchiere vado a chiedere anche il colore preferito di lei e vedo nel frattempo che stanno arrivando anche dei baci da Isidora marrone ti piace? ah no allora è quello che chiede se le piace quel colore per me il tempo che passiamo insieme è davvero prezioso credo che il nostro legame non sia mai stato così forte beh sì perché non avevate proprio un legame allora ragazzi vediamo come si sono evolute le cose 53 e 25 56 e 20 attenzione perché Isabel ragazzi ha fatto un paio di complimenti a Bjorn questa cosa importante ed è da tenere conto per le vostre opinioni ragazzi perché Isidora nonostante secondo me sia cotta di Bjorn il quale ora deve andare a fare la pipì non ha preso come dire l'input di flertare in maniera esplicita con Bjorn cosa che invece ha fatto Isabel facendo di sua spontanea volontà due volte i complimenti a Bjorn e questo infatti l'ha fatta avanzare con la romance che invece di essere 20 è 25 è veramente pochissima la differenza quindi ragazzi diciamo che sono praticamente al pari è tutto da vedere stavolta veramente sto cambiando unità familiare rimetto tutto nelle vostre mani fatemi sapere che cosa ne pensate e nella prossima puntata scopriremo chi Bjorn andrà a sposare finalmente ragazzi che cacchio sta succedendo che cacchio sta no non ci credo allora ragazzi Diomira è entrata in crisi di mezza età lo so che stavo cambiando unità familiare ma non sapevo che lei mentre Bjorn stava tornando a casa ed è praticamente dove cacchio è Bjorn non lo so più eccolo oh mio dio la visuale mi è switchata qui perché evidentemente Diomira è venuta qui maledizione a conoscere Isabel e Isidora probabilmente avrà pensato col cacchio amico mio mio figlio che deciderai tu cosa fare della tua vita e chi sposare non esiste proprio oh mio dio Diomira è venuta qui sono le 6 di mattina e con il freddo probabilmente ragazzi no ma non ci credo scusatemi ma lei ma no non sta morendo congelata non ce l'ha il buff che cacchio è successo ragazzi no vi prego vi prego ditemi ditemi di no ditemi di no Bjorn ti prego vieni qua immediatamente vai qui vai qui che sta succedendo ragazzi vi prego no 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 Diomira no no Diomira no no Diomira no ragazzi io non lo so se quello per cui lei è morta è veramente il congelamento o lo shock di avere una crisi di mezza età non ci credo non ci credo mi prego paura della morte ti credo allora ragazzi scusatemi Arthur vieni qui devi essere tu devi essere tu a pregare il tristo ti prego è anche annoiato anche lui alla crisi di mezza età non ci sto credendo allora aspettate no 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 allora alciato il cambiamento è pessimista sì ragazzi perché hanno avuto anche delle perdite anche loro sinceramente credo che sia assolutamente coerente Arthur ti supplico ti supplico tocca a te vai vai e fai in modo mannaggia la miseria fai in modo di ripagare Diomira no non ci credo non ci credo Diomira non può morire no 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 Diomira voleva soltanto conoscere le pretendenti di suo figlio ragazzi e scoprire chi chi per lei andava meglio per prendere il piccolo Bjorn non più tanto piccolo tra le sue braccia no vabbè ragazzi non ci posso credere c'è stata una bufera una bufera biorro guarda che cacca è successo per colpa tua no perché eh ciao perché Arthur non è riuscito a raccontare come dire a supplicare Diomira nel migliore dei modi per lei no ragazzi non ci sto credendo Arthur non puoi Diomira ragazzi per questa situazione anche Filippo è irrecuperabile si è buttato a terra ed è qui che sta io immagino pregando e meditando vicino a sua sorella Clelia cercando di prendere le forze sono venuti ovviamente qui in chiesa in realtà al cimitero per portare la lapide della loro sorella Diomira io non ci posso credere ve lo giuro è uno dei lutti peggiori dall'inizio di questa challenge e peraltro oggi ragazzi martedì martedì anzi ieri in realtà lunedì sono dieci anni dalla scomparsa di Tancredi quindi il 1335 sono dieci anni dalla scomparsa di Tancredi e oggi perdiamo la nostra Diomira io non ci posso credere ve lo giuro ragazzi non ci credo e peraltro qui abbiamo i nostri instancabili e allo stesso tempo disperati Arthur e Alberico suo fratello cioè il fratello di Diomira e come potete vedere Diomira è stata collocata dietro a Cornelia così da difenderla anche nell'oltretomba e ragazzi questa cosa mi fa pensare che forse l'abbandono alla vita terrena da parte di Cornelia così inatteso così come dire sconvolgente abbia traumatizzato Diomira a tal punto da trovare una scamotage per lasciare la vita perché sinceramente ragazzi morire così sembrava anche che non stesse morendo di freddo io non lo so è capitato veramente in un momento strano particolare in cui lei stava anche iniziando ad essere in crisi di mezza età oddio ragazzi guardate che dolce è venuta anche Isidora a rendere omaggio alla mamma del suo magari ipotetico futuro compagno marito e guardate qua ragazzi chi c'è pure Alessandro Alessandro che vi ricorderete essere il vecchio pretendente insieme ad Artur si sono contesi il cuore di Diomira e lui è qui a rendere omaggio anche lui a quella che è stata comunque una conoscenza sicuramente felice oddio ma che stai dicendo Alessandro ragazzi c'è sta raccontando delle barzellette per tirare su tutti e ce la sta facendo ed ecco che arriva anche il fratello no non gradisci la forma fisica il fratello Filippo che è qui ovviamente per benedire la lapide e per cercare di tirare un poco su il morale a tutti ragazzi io ve lo giuro anche anche Alberico sta cercando di confortare per la morte della zia la piccola fiammetta Filippo comunque cerca di tirare sugli altri in realtà non ci riesce assolutamente oh Clelia ragazzi guardate che dolce no zio Filippo avete visto non ce la posso fare ragazzi sono tutti dolcissimi con i bambini perché hanno veramente il terrore che possano rimanere traumatizzati da questa situazione o cielo comunque ragazzi non vedo come mai non c'è non c'è la l'altra pretendente scusatemi mi stavo ah Isabel non è avvenuta nonostante credo che Bjorn comunque l'avesse avvisata ma visto che qui c'è Isidora e Arthur sapeva già che cosa avrebbe voluto fare Clelia e scusatemi di Omira ovvero presentarsi in maniera rispettosa ad Isidora e non solo a lei ma anche all'altra pretendente quindi ad Isabel vedete tutti col cuore spezzato e quindi farà le veci Isidora è diventata buona amica di Bjorn farà le veci di sua moglie defunta basta proprio per capire cosa ci sia sotto le personalità di Isidora e di Isabel e cercare di affidare guardate lui ha pregato così avete visto e cercare di affidare Bjorn ad una brava ragazza ovviamente ti sei presentato no ancora no ok ora si vediamo un attimino tra l'altro guardate qui due fratellini Bernardo e Tancredi siete adorabili allora andiamo un attimino a vedere qual è la reazione di Arthur ah bene bene ragazzi applausi Arthur pensa che Isidora sia una persona responsabile quindi si parte bene Isidora pensa che Arthur abbia una mente forte probabilmente proprio per affrontare questo momento che abbiamo di fronte ragazzi che assolutamente non è semplice ma per darvi un quadro generale della situazione è venuta anche lei era inchiesa a pregare no vabbè ragazzi tra l'altro Alessandro la sta guardando ragazzi attenzione quindi vediamo bene Alessandro giustamente si sta appostando per cercare le non pretendenti coloro che non vengono accalappiate dai nostri sim le cerca Alessandro comunque è qui con la moglie del notaio ragazzi Arthur visto che c'è qui anche Isabel veniti a presentare in maniera rispettosa anche a lei per capire appunto se la reazione è la stessa simile eccetera così da darvi ragazzi più informazioni possibili rispetto a quello che potrebbe essere un buon partito per Bjorn mi fa molto piacere che siate venute in chiesa a pregare comunque Arthur vediamo un attimino come ti poni nei suoi confronti e come lei si pone nei tuoi confronti soprattutto vediamo dall'altra parte della aspetta piacere piacere mio si è inchinato dall'altra parte comunque della ah ragazzi entrambi hanno reagito nello stesso modo interessante ed interessante meno male che non hanno avuto una cotta l'uno per l'altra perché avrei sudato freddo ragazzi onestamente ve la dico pur è semplice ho rischiato però volevo appunto vedere come avrebbero preso un ipotetico fidanzamento con l'una o con l'altra e direi che hai fatto bene le peci di tua moglie ragazzi io sono basita non so quante altre volte lo dovrò dire ma è così e lasciamo quindi riposare in pace Dio mi era accanto alla piccola Cornelia ora siede lassù insieme oh ragazzi ora capiamo per quale motivo la nostra splendora non è andata al cimitero e questo perché ovviamente doveva prendersi cura dei piccolini e quindi della piccola Emma e del piccolo Michele mentre loro sono fuori e in realtà ragazzi c'è anche un'altra dolce novità riuscita ad intravedere il pancione della nostra splendora ebbene sì c'è un bel pancione qui e tra l'altro lei entra nel terzo trimestre tra sei ore ragazzi oggi è martedì penultimo giorno del 1335 e sospetto quindi che lei partorirà l'anno prossimo però devo dire che effettivamente abbiamo una bellissima novità accanto a una novità orrenda che abbiamo lasciato poco fa ma che in realtà ragazzi si potrebbe anche replicare qui perché siamo qui riuniti per il compleanno anche della nostra piccola Emma ebbene sì amici non siamo qui soltanto per guardare la sua immensa bellezza ma anche per scoprire se lei diventerà o meno una toddler quindi una bebè adesso è lattante quindi andiamo subito a lanciare il dato questo episodio mi sta lasciando veramente senza piato allora amici e amiche affinché la nostra Emma passi d'età non devono uscire e quindi diventi bebè non devono uscire il 4 e l'8 quindi andiamo a lanciare il dado senza perderci in chiacchiere 4 e 8 una gioia vediamola subito toddler quanto posso essere innamorata della nostra famiglia ragazzi non potete capire allora Emma è cresciuta angelica e guardate che faccino io non ci credo molto che sarà angelica però va bene allora vi faccio vedere i suoi look le ho lasciato questi capelli un po' così arruffatini corti ancora non le sono cresciuti tanto però mi piace un sacco io ragazzi la vedo una futura fantaghero non lo so voi che cosa pensate comunque la vedo così al momento e questi sono i suoi look principali quest'occhio ragazzi è sbalorditivo veramente e mi ricorda tantissimo la sua sorellina Matilde quanto mi manchi quanto mi manchi allora chissà comunque se crescerà simile a fiammetta perché per il momento sono molto molto simili anzi sono uguali in quanto a colori hanno soltanto lei ha un arancio un po' forse più chiaro di capello comunque molto molto simile ma lei ha gli occhi un po' più grandi fatemi sapere che cosa ne pensate se secondo voi eventualmente si somiglieranno quando crescerà Emma sperando che cresca peraltro perché ovviamente ragazzi da toddler sono tutt'altro rispetto a quello che poi escono quando crescono ma speriamo bene torniamo a vivere allora ragazzi in realtà siamo tornati nuovamente a casa di Bjorn e ho appena notato che sia Isidora che Isabel sono rimaste nei paraggi proprio per sostenere la famiglia e questa cosa veramente la dice lunga su entrambe sono adorabili vi specifico però per trasparenza che non ho assolutamente fatto nulla con nessuno delle due cioè non ci ho proprio parlato quindi sono curiosa di vedere se è cambiato qualcosa ora che sono andata al cimitero mi sa di sì ragazzi mi sa che un po' è cambiata forse questa c'è più oddio allora vediamo 53-25 e 74-20 con Isidora allora è vero che è 5 punti in meno di romance però è un bel po' di punti in più per amicizia evidentemente poi Isidora appunto quando è andata al cimitero si è fatta sentire maggiormente comunque ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate appunto voi visto che finora avete avuto un bel po' di informazioni per capire se Bjorn è più come dire preso o potrebbe essere più preso da una o dall'altra salve signor re e soprattutto con chi lo vedete meglio ecco questa è la domanda principale e più importante con chi vedete meglio Bjorn soprattutto adesso che la nostra Diomira è andata via e lui deve trovare una compagna con cui instaurare lo stesso rapporto che sua mamma aveva instaurato con suo papà ragazzi siamo qui per l'ultimo giorno del 1335 e la situazione in casa a Vermeer è a dir poco oscena sia per quanto riguarda le polizie non so se vi rendiate conto di che cavolo sta succedendo qui soprattutto adesso che la nostra Diomira è andata via e la Sibilla che è su sta chiedendo un consiglio al papino di sua spontanea volontà amore mio mentre invece giù la sorella Margherita sta pensando che vuole diventare amica di Clelia ma secondo me ragazzi il loro pensiero adesso fisso è come saranno in grado di portare avanti una famiglia da sole senza Diomira la risposta potrebbe forse venire da qualcuno che prenderà il posto della mamma accompagnando Bjorn quindi ho grandi speranze no non ci posso credere ragazzi crisi di mezza età anche per Arthur cacchiarola ci mancava poi soltanto la morte della moglie Demira mamma ragazzi questa sì che ne ho aspettata comunque sicuramente il fatto che arriverà presto qualcuno accanto a Bjorn ci aiuterà in tutti i sensi ma amici amiche non è finita qui perché questo ultimo giorno del 1335 anno a dir poco allucinante per noi potrebbe raccogliere altre lacrime da parte nostra perché stiamo per vedere se Margherita e Sibilla le nostre sì non me ne frega le nostre due gemelle passeranno not d'età perché oggi è il loro compleanno quindi andiamo subito a lanciare il dado prima per Margherita e poi per Sibilla ragazzi ho l'ansia allora ragazzi il grande momento è arrivato andiamo subito a lanciare il dado prima per Margherita alla vostra sinistra e poi per Sibilla alla vostra destra come abbiamo visto nello scorso episodio non deve uscire assolutamente il numero 7 quindi lanciamo subito il dado per Margherita e Sibilla anche se la faccia di Margherita non mi sembra proprio che mi ispiri però lanciamo subito il dado per lei appunto non deve uscire il numero 7 grazie signore grazie ci mancava pure questo se no oggi ok e lanciamo il numero il dado anche per Sibilla mamma ragazzi mo che ho visto una cifra stavo per crepare ragazzi Margherita è passata d'età non vedo l'ora di vederla cresciuta allora imbarazzante ragazzi è imbarazzante e testa calda glielo lascerei sinceramente oh cielo e mettiamo visto che comunque il loro obiettivo da donne di casa sarà trovare l'amore io metterò comunque l'obiettivo anima gemella con entrambe spero che per Sibilla sarà un po' più semplice anche se ragazzi aspettate perché non è finita qui dobbiamo lanciare anche i dati per ognuna di loro per scoprire se si sposeranno o meno quindi chissà se magari cambierà la loro aspirazione uno due tre creativa va benissimo va benissimo e in questo caso metto grande famiglia felice però ripeto potrebbero essere tutte mie opinioni oh mio dio ragazzi abbiamo due gemelle una più bella dell'altra tra peraltro adesso le andiamo a vedere subito nel cast anzi vi dirò di più ragazzi ve le faccio vedere nella prossima puntata nel cast tutte addobbate questo è il loro before e poi vi farò vedere il loro after ragazzi sono depresse perché non hanno potuto salutare la mamma e anzi la mamma non ha potuto salutare la loro gioventù la loro adolescenza ma andiamo subito a lanciare ulteriori dadi quindi ragazzi uno per Margherita a sinistra sempre l'altro per Sibilla a destra allora ragazzi il rullo di tamburi stavolta veramente è importante allora la nostra Margherita affinché si sposi devono uscire numeri da 4 a 20 quindi se esce 1, 2 e 3 non si sposa ok 1, 2 e 3 non si sposa 3, 2, 1 Margherita si Margherita si sposa e vediamo se ci sarà un doppio matrimonio 3, 2, 1 no non ci credo no ragazzi è uscito 2 non ci credo uffa ragazzi la nostra Sibilla non si sposa mentre invece Margherita si e Margherita è proprio la più difficile perché abbiamo visto che è testa calda e oddio che è testa calda e imbarazzante però ha molta autostima ed è attraente come abbiamo potuto notare ragazzi non ci credo tutt'altro destino per Sibilla che avrebbe voluto una grande famiglia felice quindi magari chissà non sarà la sua la famiglia felice ma finirà per essere una come dire balia nutrice come si dice comunque ragazzi la sua vita sarà diversa e seguirà quella di suo zio Filippo magari però non diventerà suora ma lo scopriremo nelle prossime puntate oh cielo amici io già mi immaginavo un bellissimo matrimonio con tutte le loro due che si sposavano con i loro compagni eccetera però questo sapete cosa vuol dire ragazzi che poiché se ne sposa solo una soltanto uno dei vostri sim in galleria potrà essere il futuro maritino quindi per Margherita e a questo punto ragazzi vi rinnovo l'invito a creare dei sim con l'hashtag come era pretendenti per Vermeer e se avete dei sim proprio specificatamente per Margherita scrivetemelo poi appunto nella descrizione o nel titolo ancora meglio proprio sim per Margherita così che appunto mi sia tutto chiaro anche perché adesso farò un paio di di verifiche ma credo che già nel tra due episodi io credo che sì tra il 1337 e il 1338 si sposeranno anche loro e quindi è dura è dura la vita è dura ragazzi soprattutto adesso che non c'è Diomira io non ce la posso fare ma almeno non le abbiamo viste morire sebbene comunque Sibilla per me aveva come destino un'altra un'altra famiglia felice però va bene vorrà dire che accettiamo quello che il dato ci porta come sempre anche perché ragazzi come avete potuto notare è sempre la tragedia dietro l'angolo quindi non la prendo come una tragedia il fatto che non si sposi assolutamente perché è pur sempre viva e vedremo quindi quale sarà anche il suo futuro fatemi sapere ovviamente le vostre proposte anche per la nuova vita di Sibilla nella sezione commenti non vedo l'ora di sapere la vostra opinione e ovviamente appunto vi ricordo l'hashtag pretendenti per Vermeer per un sim per la nostra adorata Margherita quindi ragazzi a questo punto con questa ultima giornata del 1335 che è stato a dir poco allucinante vi do l'appuntamento al prossimo episodio quindi ci vediamo domenica un bacio a tutti grazie mille per seguire questa challenge con tanto affetto e ovviamente adesso mi vado anche a prendere cura qui dell'orto e vado a vendere e a raccogliere qualcosina perché appunto è l'ultimo giorno dell'anno Arthur dove sei ti prego torna qui oddio è andato a casa di no vabbè suo cognato è suo cognato vabbè comunque ci siamo capiti e quindi ragazzi a brevissimo tra l'altro partorirà anche Splendora quindi tantissime novità anche nella prossima puntata ci vediamo prestissimo un bacio a tutti e ciao ciao